Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In a 12 ci sono 3 km di coda tra Sarzana e Carrara in direzione Rosignano per lavori. Sulla statale 62 della Cisa, traffico rallentato per un cantiere tra Villa Franca in Lunigiana e Pontremoli in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Siena, scambio di carreggiata tra lo svincolo di Firenze in Pruneta e San Casciano Nord. Sulla statale 1 Aurelia chiusa una corsia per lavori tra la stazione di Gaborrano e Scarlino Scalo in direzione Genova. Sulla statale 3 Vis Tiberina chiuso per lavori lo svincolo di Canili. Chiudiamo con gli aerei, il volo Iberia-Firenze-Madrid delle 12 decollerà alle 17. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!